Passante a sud dello Stagio dei Pini. L'ultimo atto dell'asse di penetrazione che unirà la variante Aurelia al porto di Viereggio andrà in scena lunedì a partire dalle 14 e 30 nell'aula consigliare del comune di Viereggio quando le forze politiche elette dovranno esprimersi sul progetto preliminare illustrato giovedì sera 9 ottobre all'auditore Moncaruso di Torre del Lago. Progetto, lo ricordiamo, che in quell'occasione fu criticato in molti interventi del pubblico. Ora la patata bollente torna in mano al comune che dovrà decidere se tenere conto dell'osservazione dei comitati o tirerà dritto per la sua strada. Sarebbe bene diversificare perché noi abbiamo avuto l'altra sera persone che sono totalmente d'accordo su qualsiasi intervento, delle persone che erano per una variante a nord dello stadio e altre persone di un altro tipo di variante a nord e poi coloro che erano d'accordo. Quindi abbiamo diciamo uno spaccato che fa assumere a questa amministrazione delle proprie responsabilità. Quindi noi porteremo in Consiglio Comunale un atto di indirizzo che avrà come obiettivo quello di avviare un percorso insieme alla Regione Toscana che consenta di fare gli studi necessari sia sul tema della viabilità sia sul tema del rapporto con le imprese sia sul tema dell'ambientale dopodiché se l'iter sarà un iter che consentirà l'effettuazione dell'opera noi saremo i primi a determinare questo tipo di scelta. Se il Consiglio naturalmente approverà questa proposta manderemo in Regione questo nuovo tracciato. Nel corso della trasmissione odierna a pomeriggio con noi in onda tutti i giorni alle 14 sulla nostra emittente il Vicesindaco Alberici ha annunciato un nuovo progetto per la riqualificazione di Torre del Lago. Progetto che presto verrà illustrato ai torrelaghesi e ai commercianti della Marina. Uno degli obiettivi principali riguarda la viabilità e l'arredo urbano.